Doppio placaggio di Treviso, viene Castello, quindi Canna che riprova, è guarito io un attimo, catturato, attenzione Canna, Bellini, Bellini, trovato il marco, fino in fondo! Guarda, Quaglio viene di qua, deve andare di guardia, deve essere la guardia qua e la guardia non c'è e il buco viene fatto proprio lì, si presenta all'interno, voilà! Sì, sì, c'è da vedere Wilkinson con alle spalle, quattro cambi di Treviso e il capitano Castello che sono lì a guardare insieme quello che succede, ecco l'inquadratura proprio dal basso! E gliela dà, gliela dà!